saluti a tutti dio vi benedica ricevete un forte e caloroso abbraccio nel signore oggi questo insegnamento edificati sul fondamento degli apostoli per poter comprendere questo insegnamento voglio partire dal principio della bibbia dove dio sempre ha avuto patriarchi prima del diluvio con noè poi vengono gli ultimi patriarchi come abraham isacco e giacobbe e con la legge di mosè a partire da lì vengono i profeti e dopo che cristo viene cominciano gli apostoli voglio sviluppare questo tema e partiamo da bramo leggiamo in genesi capitolo numero 17 verso 1 genesi capitolo numero 17 verso 1 quando abramo ebbe 99 anni l'eterno gli apparve gli disse io sono il dio onnipotente cammina alla mia presenza e si integro all'età di 99 anni gli apparve questo dio onnipotente e gli disse di camminare alla sua presenza e con integrità doveva credere a lui e obbedire a lui per ricevere abramo benedizioni e nel verso 2 e io stabilisco il mio patto fra mette e ti moltiplicherò grandemente dice la bibbia che porrà il patto stabilirà il patto fra me e te fra dio e abramo e lo moltiplicherà grandemente nel verso 4 quanto a me ecco io faccio con te il mio patto io diventerò e tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni aveva solamente un figlio in quell'epoca da gar la sua serva chiamato ismaele però abramo ha creduto e gli ha detto il signore che il suo nome non sarebbe stato più abramo ma abramo e la sua sposa non più sarai se no sarà e abramo è stato obbediente a dio ha creduto a dio e sapeva che se il dio onnipotente stava facendo queste promesse così sarebbe successo e compiuto verso 10 dice così questo è il mio patto che voi osserverete fra me e voi e la tua discendenza dopo di te ogni maschio fra voi sarà circonciso e nel verso 11 dice così e sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio e questo sarà un segno del patto fra me e voi e a partire da lì da quel momento dio ha formato un popolo il popolo di dio il suo tesoro particolare tesoro e loro chiedeva questo a loro che si circoncidessero quello che dio ha fatto con abramo e dio lo ha compiuto ha dato isacco isacco giacobbe giacobbe ha avuto 12 figli conosciuto come le 12 tribù di israele e ricordate che sono stati schiavi in egitto che sono arrivati alla terra di canaan dove dio gli ha dato statuti decreti ordinamenti e dio ha utilizzato come salvatore mosè e ha posto ordinamenti perché convivessero in comunità oltre a questo gli ha detto di esterminare tutti i popoli che stavano lì come gli amoreo i filissei però loro non sono state obbedienti e hanno iniziato ad adorare dei estranei per questo la ha mandato nazioni potenti come gli assiri che sono andate a sterminarne però dio sempre ha ha protetto una piccola comunità un residuo perché da questo residuo viene il signore gesù cristo e quando cristo viene lui ha annunciato delle buone nuove la pace e dice nel libro di effesini capitolo numero due sto cercando di contestualizzare per voi che siete nuovi recenti nella chiesa che state iniziando ad ascoltare questi insegnamenti nel libro di effesini capitolo numero due nel verso numero undici effesini capitolo numero due verso numero undici perciò ricordate che un tempo voi gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo ricordiamo che dio ha fatto un patto con abraham che per essere questo popolo fisico di dio dovevano circoncidarsi il prepuzio e per questo qui il signore sta dicendo alle altre nazioni che non si dovevano circoncidere li chiama incirconcisi e nel verso 12 dice eravate in quel tempo senza cristo esclusi dalla cittadinanza di israele ed estranei e patti della promessa non avendo speranza ed essendo senza dio nel mondo e allora dio cristo viene ad abrogare questa legge questa legge che il popolo fisico non ha compiuto perché questo quando è venuto cristo in mezzo a noi è venuto a compiere questa legge uno solo diceva obbedito agli statuti e comandamenti che dio ha stabilito dal dal tempo di mosè per questo dio si è fatto uomo ed è venuto a compiere e anche ad abrogarlo è necessario che io me ne vada per inviare l'altro consolatore allo spirito della verità che vi guiderà e sarà con voi però la promessa più bella che sarà dentro di noi però cristo annunciava e diceva chiamerò il popolo un popolo che non era il mio popolo e per questo qui quando dice che i gentili si riferisci a questi incorcisi che erano in quel tempo senza cristo perché cristo era il re dei giudei e così cominciarono a predicare questi uomini questi discepoli che camminavano con cristo cominciavano ad annunciare a dire che veramente gesù era il re dei giudei e che erano lontani dalla cittadinanza di israele ed estranei ai piani della promessa ai patti della promessa che aveva fatto abramo esacco a giacobbe questo tesoro particolare per il signore e così erano i gentili eravamo gentili senza speranza senza dio nel mondo perché i gentili non avevano questa benedizione però viene cristo abruca la legge e riconcilia riconcilia dice nel verso 16 come ci riconcilia dio a un prezzo alto il signore gesù mediante per mezzo della croce dice per riconciliare ambedue con dio in un sol corpo per mezzo della croce ambedue i circoncisi e gli incirconcisi i gentili e a questo popolo di israele e dice la bibbia e avendo ucciso l'inimicizia dice ancora questo verso in se stesso questo popolo di israele non si poteva mischiare con i gentili però il signore gesù dice adesso voglio che si circoncisi il cuore e quando si circoncidano il cuore perché hanno creduto e hanno applicato i mandati i comandamenti e gli statuti che io sto stabilendo che sto facendo conoscere e questo anche sarà chiamato israelita però un israelita spirituale e per questo l'ho annunciato il signore gesù e dice così bene il verso 16 che è venuto ad annunciare il verso 17 la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini quali sono le buone novelle la pace dio con noi questo dio con noi significa che cristo era il figlio di dio e come figlio di dio lui lasciava ordinamenti statuti decreti comandamenti perché credessero e lo applicassero e ad applicarlo e a crederlo questi sarebbero stato chiamato il vangelo di cristo e dice che voi eravate lontani i gentili gli incirconcisi e quelli che erano vicino anche chi il popolo di israene allora coloro che si sono circoncidati e allora in verso 19 dice voi dunque non siete più forestieri ed ospiti ma concittadini dei santi non mi sentite più stranieri siete popolo di dio e membri dice della famiglia di dio e dice concittadini dei santi e perché concittadini dei santi perché dio voleva che ambedue sia il popolo israele che il popolo che si iniziava a creare questo popolo spirituale fossero santi significa appartate per il signore compiendo con l'evangelo con gli ordinamenti con gli statuti e per questo dice membri della famiglia di dio tutti coloro che credono in cristo e praticano e sono facitori della sua parola dei suoi ordinamenti dei suoi comandamenti dio gli avrebbe dato un cognome famiglia di dio di dio quando crediamo in lui e siamo facitori della sua parola benedetto il nome del signore partendo da qui voglio toccare questo tema fondamentale per l'insegnamento di oggi dice la bibbia matteo capitolo numero 10 matteo capitolo numero 10 verso 1 ricordate che gesù cristo camminava e predicava queste buone novelle guarendo facendo guarigione calmando tempeste sul mare salvando e guarendo il paralitico facendo ogni tipo di miracolo che un mutuo parlasse e è andato a scegliere dei discepoli e questi discepoli che si sono convertiti in questo circolo vicino a dio gli ha dato uno stato uno stato speciale un dono speciale e sono stati chiamati apostoli matteo capitolo numero 10 verso 1 dice così poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli diede loro guardate cosa ne diede diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e quali sono gli spiriti immondi ricordate che il diavolo questo angelo che dio ha creato e gli ha dato bellezza gli ha dato potere si è voluto sedere nel trono di dio per questo è stato espulso lui e i suoi seguaci questi spiriti sono stati espulsi dalla vicinanza di dio e questi spiriti sono per noi demoni o spiriti immondi e guardate cosa dio dà agli apostoli ai discepoli autorità sopra gli spiriti immondi che significa che quando pregano impongono le mani o parlano questi spiriti immondi escono dal corpo e dice per scacciarli e cos'altro ha dato agli apostoli per scacciare questi spiriti immondi e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità dio ha dato autorità perché scacciassero questi spiriti immondi per guarire da ogni malattia e infermità questo ha fatto con i dodici apostoli e oggi vi voglio dire di un apostolo che che è la sorella maria luisa se vediamo la sorella maria luisa ha avuto una chiamata da dio questo lo narra nel libro di esperienze dove dio le diceva che l'aiutasse a scegliere le anime per il regno lei rispondeva sì signore però diceva anche la nostra sorella quando io morirò tu mi porterai per il cielo la sorella maria luisa cercava di salvare tutti che tutti che tutti fossero salvi e questa chiamata che dio le ha fatta la sorella maria luisa oggi è la leader a livello mondiale della chiesa abbiamo ascoltato un numero impressionante di testimonianze di miracoli di come persone che sono tormentate da spiriti che sono indemoniate che oggi con questa quarantena che stiamo vivendo in questo periodo come hanno raccontato testimonianze di persone che non erano controllabili e ad ascoltare la preghiera della sorella maria luisa sono stati liberati sono diventati più pacifici perché perché quando dio chiama un apostolo ne dà autorità su questi spiriti immondi perché se ne vadano qui parla di ogni tipo di infermità malattia se vediamo in questi giorni ascoltavamo di una persona che era tormentata da spiriti e si contorceva continuamente non poteva parlare e la domenica scorsa ha ricevuto l'insegnamento ascoltato l'insegnamento e quando la sorella maria luisa pregava ha sentito come il suo corpo si scaldava come la sua lingua non era più pesante ma iniziato a parlare normalmente e dio la guarita perché andato via questo spirito immondo di questa malattia che lei soffriva questa autorità dio dagli apostoli dice la bibbia nel verso 7 diceva agli apostoli andate a predi e predicate dicendo il regno dei ceni è vicino e questo è quello che dio ha fatto con la nostra sorella maria luisa predica il suo evangelo la sua parola dicendo che dio non è lontano che dio è vicino e che è qui con noi però vuole stare anche dentro i nostri cuori come lo diceva bene il nostro signore gesù cristo che era necessaria la sua partenza per inviare un altro consolatore un altro come cristo perché stesse con noi e dentro di noi e questo in quello che ha fatto la nostra sorella maria luisa il verso 8 guarite gli infermi mondate i lebrosi risuscitate i morti scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date e così è stato tutto è per grazia di dio la nostra sorella ha raggiunto questa grazia si è innamorata di dio si è occupata di predicare e di andare questi 50 anni predicando l'evangelo ha fatto il signore grandi guarigioni ha scacciato via demoni perché lei sa che tutto lo deve a dio benedetto il nostro dio per essere a posto del signore e andiamo al libro dei romani capitolo numero 1 verso 1 qualcosa che voglio mettere risalto in mezzo alla congregazione della chiesa e di tutti quelli che mi stanno ascoltando dice così paolo romani capitolo 1 verso 1 paolo servo di gesù cristo chiamato ad essere apostolo ha partato per l'evangelo di dio l'apostolo paolo quest'uomo che ha perseguitato i primi cristiani lui ha avuto una grande esperienza con dio 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 gli ha tolto la vista poi l'ha recuperata ed è stato portato ed è stato insegnato l'evangelo e ha predicato la sorella maria luisa racconta nelle esperienze come dio l'ha istruita attraverso profezie attraverso gli studi biblici come dio le ha rivelato la dottrina l'evangelo tutto questo è dato da dio ma perché perché hanno una chiamata del signore una chiamata per queste cose meravigliose com'è predicare l'evangelo ed essere un apostolo del signore dice la bibbia nel secondo libro dei corinzi andiamo al libro dei corinzi secondo libro dei corinzi capitolo numero 12 continuiamo a parlare dell'apostolo paolo e lui come apostolo ha sofferto ha avuto spine nella carne malattia e non per questo lui rinunciava al lavoro per il signore si è sforzato per il signore e per predicare le cose del signore dio l'ha usato in modo grande e dice nel verso 12 anche se vediamo l'ultima parte del verso 11 non sono stato perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli benché io non sia niente lui diceva io ho non sono stato inferiore ai grandi apostoli ai sommi apostoli benché io non sia niente questo caratterizza un apostolo l'umiltà e che umiltà quella della sorella maria luisa dio mi ha permesso di stare molto vicino a lei e ho visto quest'umiltà e tutto lo fa per il signore ad ogni persona offre amore affetto e vuole farmi comprendere che dio vive e che questo è il nostro migliore cammino questo è il più grande tesoro che abbiamo conoscere lui e sapere di lui e nel verso 12 dice ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza con tutti con tutti dio ha fatto grande meraviglia con grande pazienza l'apostolo paolo ha avuto tanta pazienza perché lo criticavano lo assediavano perché volevano fargli del male e dice consegni e prodigi e con opere potenti a un apostolo è accompagnato da questo da segni prodigi e da miracoli e tutti voi tutti noi oggi siamo testimoni di ogni segno prodigio miracolo come dio usa la nostra sorella maria luisa come apostolo in questa epoca vi invito a entrare nella pagina web della chiesa www.idmji.org ascoltate giornalmente ci sono testimonianze prodigi segni miracoli di come dio ha usato la sorella maria luisa in che modo meraviglioso dio l'autenezza per evangelizzare per insegnarci l'evangelo la dottrina e per questo il titolo dell'insegnamento di oggi lo troviamo in efesini capitolo numero 2 verso 20 dice così edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti ricordate che un apostolo e anche profeta oggi giorno essendo gesù stesso la pietra angolare e allora dio vuole che la sua chiesa sia un edificio dove questa base questo fondamento è la pietra angolare e il signore gesù cristo però dice su questo fondamento su questa base ci sono gli apostoli per questo e l'importanza e il valore di un apostolo come la nostra leader la nostra sorella maria luisa per la chiesa per questo sta insegnando queste basi fondamentali rudimenti della dottrina dell'evangelo e ci insegna ad avvalorare che cristo sia il figlio di dio che cristo nel cammino alla salvezza che si cristo è il nostro riposo è il pane della vita e quale pane della vita il pane della vita che ci porta alla vita eterna tutto questo ci ha edificato e la sorella maria luisa come apostolo profeta che ci ha insegnato il suo evangelo e la sua dottrina nel verso 21 su cui tutto l'edificio nella chiesa del signore ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel signore e di questo si è occupato la nostra sorella maria luisa con l'aiuto del nostro signore gesù cristo ed è cresciuta la chiesa e per questo ogni giorno di più le persone credenti si sono convertite a dio e quando uno si converte a dio perché è stato edificato nel fondamento di questo apostolo di questo profeta e allora cosa succede che nasce questa sete di voler ricevere i doni spirituali di voler come dice qui di essere servitori di dio e va crescendo in noi per essere un tempio santo perché dio abiti dentro di noi perché questo è il nostro obiettivo che ognuno di noi siamo tempio del signore si si può e dice in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di dio nello spirito dio vuole che tutti noi nella misura in cui ci edifichiamo e conosciamo il suo evangelo la sua dottrina siamo tempio di dio e per questo c'è questo fondamento edificati sul fondamento degli apostoli e profeti dice in efesini sempre nel libro di efesini capitolo numero 4 nel verso 11 dice che egli stesso cristo il signore gesù cristo ha dato alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti e altri come pastori e dottori o maestri lui li ha costituiti e con il fine del verso 12 per infezionamento dei santi per l'opera del ministero quali santi sono i credenti sono i credenti nella chiesa del signore e per l'edificazione del corpo di cristo come dio chiama i suoi credenti li chiama edificio o fate parte del corpo dove la testa è cristo e noi siamo parte di questo corpo dove ognuno di noi ha una funzione però dio vuole che attraverso un apostolo siamo edificati per il perfezionamento e cosa significa questo perfezionamento lasciare il peccato e questa è la cosa importante per questo quanto è importante è stata ogni meditazione ogni predica che abbiamo ricevuto in questi tre mesi e mezzo dalla sorella maria luisa questo ha aiutato perché ognuno di noi cerchiamo questa perfezione ne vogliamo veramente con piacere il signore ed essere tempio di dio perché noi vogliamo essere parte del corpo di cristo e che dice altro nella bibbia nel verso 13 in questo capitolo numero 4 di efesini finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di dio immaginate noi dobbiamo arrivare a questa unità della fede a credere in dio a conoscerlo come pane di vita come cristo il cammino e la verità e la verità ed è questo che ci darà la salvezza e che giungiamo alla misura della statura della pienezza di cristo dio vuole questo che siamo veramente tutti cristiani cristiani significa simili a cristo pieni di lui pieni dello spirito santo di potere di conoscenza di fede di fiducia in lui però perché perché abbiamo delle buone fondamenti siamo stati edificati su questa pietra angolare cristo gesù però basate sui fondamenti dati da questa posta chiamata sorella maria luisa ricordate questo libro la bibbia è stato ispirato dai santi uomini di dio ispirati dallo spirito santo e oggi è restato si è fatto conoscere attraverso questo posto l'ho chiamato la sorella maria luisa che benedizione che abbiamo nella chiesa che dio la benedica sempre ci benedica a tutti per poter veramente desiderare raggiungere questa statura della pienezza di cristo e se la bibbia lo dice se la nostra sorella maria luisa ce lo insegna e ce lo ricorda costantemente si si può e lo raggiungeremo dobbiamo sforzarci fratelli e andare avanti che dio benedica la sua parola che dio benedica la bibbia che dio ci benedica tutti per questo padre buono estende la tua mano potente su tutti gli ammalati guarisciti da ogni malattia acciacco o dolore di questo virus aiuta signore e abbia misericordia perché questo virus finisca perché guarda tutti i danni che sta facendo a livello materiale economico ti chiedo per tanti fratelli che hanno perduto l'impiego le imprese aiutali signore aiutaci a tutti signore ad andare avanti benediscici apri nuove porte lavorative che possa turistabilire imprese guidali aiutali aiutaci signore ad amministrare bene il poco il tanto denaro che passa tra le nostre mani e spiritualmente continua a dare doni a manifestarti grandemente signore però padre buono dacci guarigione di ogni malattia acciacco e dolore e fai miracoli che siano via sia tu scacciando questi demoni che siamo liberi 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 da ogni spirito di malattia liberi da ogni maledizione dacci senno per per amarti per comprenderti per avvalorarti benedici le nostre famiglie nostri matrimoni aiutaci signore ad essere pazienti a comprenderci gli uni agli altri aiutaci padre santo con questa buona amicizia con le nostre coniugi con i nostri figli benedice la sorella maria luisa proteggela aiuta le danni e tanti anni di vita e che continui ad insegnarci attraverso queste grandi prediche queste grandi meditazioni questi studi biblici aiutaci signore ad andare avanti in questo cammino fratelli che di ogni potente vi benedica ricevete un forte abbraccio e a presto